il pano nero sono la lombardina c'erano 50 c'erano 5 c'erano che lavorava il riso c'erano come si chiama il direttore il direttore hanno libretto si pisa la casa e pericolò il direttore e la storia in aspetta senta di aria quando sei una dittoria prende uno Volevo prendere la voce! Devo mettere il direttore! Volevo mettere il direttore! Ok! Scandurra! Assessore Scandurra? Sì! Risulta che lei sia il direttore dell'ANFE! Giusto? Sì! Sono in consiglio comunale! C'è una pausa di consiglio! Sono state già rotta! Vabbè adesso non mi rivolgo! Non mi rivolgo! Non mi rivolgo! Non mi rivolgo. Non mi rivolgo! Non mi rivolgo! È un valore! È un valore! Grazie.